Amici ai soft e liberi open source, benvenuti o bentornati in questo 109esimo episodio del podcast di Marcosbox. Sigla! Rieccoci qui con una nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare le principali notizie della settimana appena trascorsa. Apriamo questa puntata parlando di aggiornamenti di sicurezza critici. I team di Apache OpenOffice e LibreOffice hanno rilasciato degli aggiornamenti di sicurezza per i loro rispettivi software volti a correggere diverse vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate da malintenzionati per modificare i documenti e fargli sembrare che siano stati firmati digitalmente da una fonte attendibile. Sfruttando queste vulnerabilità infatti un malintenzionato potrebbe manipolare il timestamp dei documenti ODF firmati alterandone il contenuto o firmare con una firma non attendibile. Le vulnerabilità sono state corrette in Apache OpenOffice 4.1.11 e LibreOffice 7.05, 7.06, 7.11, 7.12. Quindi se utilizzate Apache OpenOffice o LibreOffice correte ad aggiornare i vostri software. Cambiamo adesso totalmente l'argomento e parliamo di una guida realizzata da Andrea Paz che spiega come utilizzare SystemdAnalyze. SystemdAnalyze è un comando da terminare che ci permette di analizzare il boot alla ricerca di eventuali problemi che accadono in questa fase o di suggerire ottimizzazioni per velocizzarla. Andate a leggere la guida che è molto semplice e molto ben fatta che vi dà un'infarinatura e vi spiega un po' come funziona il tutto, come funzionano i principali comandi. Questa settimana c'è stato un grande evento, ovvero il 25esimo compleanno di KDE. Ebbene sì, KDE compie 25 anni e per festeggiare questo evento è stata rilasciata una nuova versione di KDE Plasma, precisamente KDE Plasma 5.23 ribattezzata per gli amici KDE Plasma 25esimo anniversario. Questa nuova versione di KDE Plasma offre diversi miglioramenti sia sotto il cofano che miglioramenti estetici. È stato introdotto un nuovo tema, Breeze, che rende le applicazioni degli strumenti di KDE non solo più attraenti, ma anche più facili da usare sia sul desktop che sul tablet e smartphone. Ovviamente l'aspetto non è l'unico punto su cui si sono concentrati gli sviluppatori di KDE perché ci sono state fatte diverse ottimizzazioni che donano a KDE Plasma maggiore velocità, maggiore affidabilità e nuove funzionalità che hanno trovato la loro strada all'interno, ad esempio, di applicazioni come i Launcher, i Software Manager, nell'implementazione di Wildland e anche nella maggior parte degli strumenti di utilità di KDE Plasma. Su Marcosbox trovate un video davvero carino che è stato postato da parte della community di KDE Plasma che spiega i 25 anni di KDE Plasma, quindi di evoluzione con... Vi fa vedere anche le vecchie versioni, come erano le vecchie versioni di KDE Plasma. Se siete utenti di KDE da lunga data come me, vi scenerà anche la cremuccia ripensando a quei tempi. Su Marcosbox trovate poi anche il link al comunicato stampo ufficiale dove ci sono maggiori informazioni, screenshot e quant'altro e vi dico una cosa, se avete un modo di provare, di avere una partizione, mettere una partizione sul vostro artisk da dedicare a un'altra distribuzione, installatevi KDE Neon perché KDE Neon, anche nel ramo stabile, è stato aggiornato praticamente a tempo zero da quando è stato fatto l'annuncio e è subito arrivato all'interno dei repository di KDE Neon e quindi se volete gustarvi KDE Plasma 5.23 con il nuovo look e quant'altro andate a installarvi KDE Neon e vivrete felici. Io l'ho apprezzato, lo sto apprezzando davvero tanto, mi sta piacendo moltissimo questo nuovo aspetto, è tutto più bello perché diciamoci, il tema Breeze impostato, il nuovo tema Breeze che viene impostato è davvero molto bello. Poi sono stati aggiunti gli accenti, la gestione degli accenti come si, come su altri desktop e barbara, come va di moda negli ultimi periodi e altre cosine qualità che sono davvero belle. Provatelo, non ve ne pentirete, anzi come diceva Aglieszone, provare per credere. Cambiamo nuovamente l'argomento e passiamo ai rilasci delle distribuzioni Linux. Questa settimana c'è stato il rilascio di Devon Kimira 4.0. Devon lo conoscete, è praticamente un fork di Debian senza Systemd. Di questo progetto ve ne avevo già parlato qualche anno fa quando ho avuto il piacere di intervistare uno dei fondatori del progetto su Marcosbox, trovate maggiori info con il link all'intervista, dove vi spiegano il perché e l'esigenza di realizzare una Debian senza Systemd, ma con altri init. Quali sono le novità di questa nuova versione? Beh, la prima è che è questa nuova versione di Devon, è basata su Debian Busai, l'ultima versione di Debian, precisamente la 11.1, e utilizza il kernel Linux 5.10. La possibilità di scegliere il proprio init, Systemv init, Runinit, OpenRC, quindi a voi la libertà di scelta di quello che vi piace di più. Supporto desktop migliorato perché praticamente tutti gli ambienti desktop disponibili in Debian adesso fanno parte di Devon. Nuovi temi di avvio, display manager e desktop, e miglioramenti nell'accessibilità. Per maggiori informazioni vi invito a leggere i link che trovate su Marcosbox, con il change log completo, con la guida all'installazione, la documentazione e quant'altro. E vi ripeto nuovamente, andatevi a leggere l'intervista che ho fatto qualche anno fa ad uno dei fondatori del progetto Devon. Scusate, ogni tanto mi impapocchio con la lingua. Stasera sono molto stanco, sto registrando questa puntata, non so neanche di come sto facendo. Ma passiamo adesso ai rilasci, quelli proprio cicciosi, quelli che ci piacciono tanto, quelli che fanno parlare, perché come al solito, quando si parla di questa distribuzione, tutti quanti hanno a che ridire, sia nel bene che nel male. Ovviamente avrete capito, sto parlando del rilascio, della nuova versione di Ubuntu, precisamente Ubuntu 21.10, nome in codice Impish Indri. Questa nuova regrese semestrale di Ubuntu, il cui supporto sarà per nove mesi da rilascio, offre diversi miglioramenti e anche una piccola novità che farà storcere il naso a molti di voi. Anzi, che ha già fatto storcere il naso a molti di voi, quando l'ho annunciata tempo fa, quando vi ho parlato della versione beta. La principale novità riguarda l'arrivo di Gnome Shell 40, quindi con il paradigma di desktop orizzontale per gli spazi di lavoro, resta comunque la doc laterale all'Ubuntu, quindi è una situazione un po' particolare, un po' così, diciamo così. C'è la nuova versione del tema Yaro, perché a questo giro il team di Ubuntu ha deciso di rilasciare soltanto due versioni del tema Yaro. la versione completamente chiara, che è il tema di default, che troviamo su Ubuntu 21.10, e la versione completamente scura. Scompare quindi quella versione intermedia che tanto piaceva a tante persone di voi ascolto, me compreso, perché la versione con il pulsante e quant'altro, tutto chiaro, ed erbar scura, era molto figa, diciamocelo. Era molto bella, caratterizzava molto Ubuntu. Invece adesso facciamo soltanto la chiara e la scura, per allinearsi ancora di più al, come si chiama, al tema a due ita, quindi si riducono al minimo gli sforzi per fare il proprio tema. La novità che ha fatto storcere il naso a molti di voi allo scotto, me compreso, è il fatto che Firefox resta sì, il browser predefinito di Ubuntu 21.10, ovviamente, però a partire da questa release la versione preinstallata sarà quella in formato Snap. E sapete bene che quando si parla di formato Snap tutti quanti iniziano a dire la propria idea di Snap, tutti quanti iniziano a criticare il fatto che, è un dato di fatto risaputo, le applicazioni in formato Snap sono più tentate ad avviarsi, specie al primo obbio. e mettere un browser che è una delle applicazioni che uno utilizza di più sui desktop in formato Snap, non so fino a quando possa essere una mozza molto saggia. Il vantaggio però di questa scelta è che questo pacchetto in formato Snap viene curato direttamente da Mozilla con l'aiuto di Canonical e in teoria questo consente di avere una versione più pura di Firefox, quindi senza personalizzazione e quant'altro, e una versione anche più facilmente aggiornabile, quindi ci saranno rilasci in tempi più rapidi rispetto alla versione presente all'interno o alla versione classica dei repository, perché non ci sarà problemi di dipendenze e quant'altro, quindi speriamo che comunque nelle prossime versioni riescano a migliorare un po' sta velocità dell'applicazione in formato Snap. Vedremo. L'altra novità comunque riguarda Wayland che ora è disponibile in presenza di driver proprietari Nvidia, abbiamo Pulse Audio 15 che introduce il supporto per il codec Bluetooth e le DAC e aptX, nonché per i profili Bluetooth HFP, che forniscono una qualità dell'audio migliore. I pacchetti Debian verranno ora compressi tramite ZSTD per offrire una maggiore velocità di decompressione, il kernel Linux a questo giro è il 5.13, la versione di me sarà il 21.2, poi si sono state aggiornate i soliti toolkit e quant'altro, quindi GCC che è la versione 11.2, al 2.0, GRIB, GRIB C al 2.34, vabbè andatevi a leggere tutte queste cose che vi piacciono tanto a voi. Ovviamente sono state aggiornate anche i vari frameworks ufficiali di Ubuntu, quindi Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu Vagi, Ubuntu Kirin, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio e X Ubuntu. Chi più chi meno vengono aggiornate la principale novità di quelle con i desktop environment alternativi e che troviamo aggiornamenti anche per quanto riguarda le versioni appunto dei desktop environment. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate se continuate a utilizzare le R-Race semestrali di Ubuntu. Io personalmente ho abbandonato le R-Race semestrali di Ubuntu anche perché ultimamente mi sono dedicato ad altre distribuzioni le provo le R-Race semestrali soltanto nella fase in sviluppo. Ecco, io sono masochista provo le versioni in sviluppo semestrali soltanto nella fase quella dove ci sono più bug perché mi piace vedere magari le ultime novità e quant'altro però poi una volta che esce la versione stabile perdo decisamente interesse nei confronti delle R-Race semestrali e so strano lo so. Restando a parlare sempre di Ubuntu è stato annunciato il nome in codice della prossima versione di Ubuntu che ricordo a tutti sarà una versione LTS quindi con supporto a lungo termine. L'annuncio non viene più come da qualche anno non viene più per bocca del patron di Ubuntu Mark Shutterworth ma è arrivato tramite la pubblicazione del nome in codice su Launchpad quindi si è avviato il nuovo ramo di sviluppo su Launchpad ed è stato pubblicato il nome in codice della prossima versione Ubuntu 22.04 LTS si chiamerà Gemmi Jellyfish la traduzione in italiano non è immediata la parola Gemmi nel linguaggio colloquio inglese viene usata per indicare qualcosa tipo di fortunato ma anche qualcosa di facile però significa anche confettura marmellata quindi alla fine c'è questa ambiguità voglio pensare comunque che sia stato dato questo nome semplicemente per indicare una reglai sfortunata non marmellata anche perché l'altra parola come sapete bene c'è di solito le versioni di Ubuntu hanno un aggettivo e un animale in questo caso l'animale totemico della prossima versione di Ubuntu è una medusa quindi una marmellata di medusa non mi sembra tanto indicata come nome per una prossima per una versione di una distribuzione Linux anche se è carino spero che sia una medusa fortunata o una medusa facile da installare facile da leggere non lo so vabbè chissà che cacchia gli è passato veramente agli sviluppatori di Ubuntu quando hanno deciso di dare questo nuovo nome in codice anche vabbè lo sappiamo perché con la G sapete che vanno in ordine alfabetico quindi Jellyfish o qualche altro animale in inglese con la G non lo so che gli veniva in mente hanno utilizzato quello più semplice è come quando giocate a nomi cose città e scegliete sempre le parole semplici comunque non sappiamo niente ovviamente ancora di questa nuova versione di Ubuntu a parte il fatto che sarà rilasciata ad aprile del 2022 ci aspettiamo comunque che ci sia Gnome 41 ci aspettiamo che ci sia il nuovo installer abbassato su FUTE che doveva arrivare a questo giro ma cioè versione semestrale ma invece non è arrivato non so se a questo punto se lo introducranno veramente nella prossima GTS perché sarebbe un bagno di sangue se non hanno testato a dovere e sappiamo però che Firefox sarà disponibile soltanto in formato snap a meno così da quel che si è capito quindi a meno di ripensamenti e quant'altro bella bella stavo per dire bella beep vabbè fatemi sapere voi ovviamente che cosa ne pensate con un commento su Marcosbox di questa scelta di Firefox sono davvero curioso di sapere la vostra opinione al riguardo concludiamo questa puntata con una notizia che probabilmente non troverete sulle pagine di Marcosbox sto facendo spiego adesso vi parlo prima della notizia in sé per sé e poi vi spiego perché sono un po' indeciso se pubblicato o meno nel caso se non la trovate sulle pagine di Marcosbox soltanto voi che ascoltate il podcast saprete qual è il mio pensiero su questo dispositivo conoscete il Pinephone è stata annunciata la nuova versione di questo dispositivo di questo smartphone equipaggiato con un sistema operativo Linux e questo nuovo dispositivo si chiama Pinephone Pro quali sono le novità principali? la novità principale è che il Pinephone Pro ha un nuovo chip un Rockchip RK2299S è un chip da 1,5 GHz ed è una versione modificata del shock utilizzato sul Pinebook Pro da quel che ho capito da quel colletto sommariamente le prestazioni sono simili c'è circa un 20% in meno rispetto al Pinebook Pro 15-20% in meno quindi siamo lì come potenza pura che ci sono le altre novità quali sono? maggiore durata della batteria questo dovuto principalmente a questo a questo chip quindi possibilità di utilizzarlo più o lungo diciamo così le specifiche poi sono comunque da fascia sempre più alta fascia più alta rispetto al passato diciamo così perché troviamo su questo su questo Pinephone Pro scusate 4 GB di RAM LPDDR4 e una memoria EMC da 128 GB le specifiche fotografiche se non ricordo male restano le stesse perché anche in questo caso abbiamo un sensore Sony IMX 258 da 13 megapixel nella parte posteriore nella parte interiore poi abbiamo un omnivision quindi nulla di che restano comunque lo slot per la microSD i poco pin l'USB-C con inclusa l'uscita video perché c'è anche la dock che è possibile collegare la televisione la batteria resta quella passata a 3000 mAh se non ricordo male che è sostituibile grande cosa cosa che apprezzo comunque del progetto e sebbene sia un po' più grande rispetto al modello originale il dispositivo è anche retrocompatibile con gli accessori della custodia del Pinephone quindi come anche come accessori come la futura custodia con la testera fisica diciamo così i preordini per l'edizione per gli sviluppatori del Pinephone Pro sono disponibili a partire da oggi 15 ottobre però da quel che è capito da quel che è stato detto appunto che diciamo così tutti gli altri tutti i non sviluppatori dovranno aspettare per diciamo così per poter fare il preordine del proprio dispositivo verso la fine dell'anno verso la fine del 2021 per chi è rivolto questo dispositivo beh è rivolto per tutti quanti hacker per tutti quanti hacker intenso in senso di persone curiose che amano utilizzare software nuovo che amano studiarlo che amano scoprire una potenzialità che amano scoprire nuovi modi per poterlo sfruttare e quant'altro quindi esperti di tecnologia ma anche nerd quelli fino al midollo quindi sì gente come me come te che mi stai ascoltando che amano questo tipo di dispositivi e che possono passare sopra alle limitazioni perché dico possono passare sopra le limitazioni perché non volevo fare tanta pubblicità a questo progetto perché a parte il fatto che stiamo parlando comunque di un dispositivo che costerà 399 dollari a meno di costi di spese di spedizione qualche altra tasse e quant'altro quindi che ci potrebbe ora essere verso la fine quando lo importerete quando lo acquisterete alla fine dicevo perché non o deveremo pubblicare notizie di questo tipo non mi avete sentito nemmeno parlare poi tanto della ginkpad il tablet quello equipaggiato con linux e progetti simili perché questo tipo di dispositivo a mio avviso è diverso da un computer generico su un computer generico un utente ci instaga un sistema operativo alternativo ed è già un grande passo perché non è una cosa da tutti quanti instaga un sistema operativo alternativo va a cercare dei compromessi però alla fine come si dice a foggio strutture it determinate applicazioni che trovi su un sistema operativo desktop trovi il browser quello che ci fai tutto praticamente adesso diciamocelo il 90% dell'utilizzo che fa una persona normale di un computer può essere fatto può essere svolto tramite un browser perché con un browser ci navighiamo ma abbiamo anche web app come di suite da ufficio e quant'altro quindi ci possiamo fare la maggior parte dei compiti che una persona normale può fare con un computer può fare sia con windows che con linux perché appunto il 90% della roba la fa tramite browser annetto poi di esigenze specifiche di programmi specifici e quant'altro e l'ho detto in linea di massima uno può fare tutto da browser diverso però il discorso su dispositivi come smartphone e tablet in particolar modo per gli smartphone perché uno con lo smartphone che cosa cercano lo smartphone lo smartphone è un dispositivo che abbiamo in tutte le tasche che ci serve per diversi compiti lo utilizziamo come riproduttore musicale ma lo utilizziamo per guardare video lo utilizziamo per telefonare lo utilizziamo per mandare mail lo utilizziamo per fare foto lo utilizziamo per le applicazioni bancarie lo utilizziamo per come navigatore ma lo utilizziamo anche con una serie quasi infinita di applicazioni però principalmente noi utilizziamo applicazioni specifiche specifiche per la messaggistica e diciamocelo un whatsapp non ci sarà mai la compatibilità di whatsapp su un dispositivo come questo ho fatto un whatsapp per fare un esempio se per esempio utilizziamo i social con dispositivi come questi siamo costretti ad utilizzare non applicazioni native ma siamo costretti ad utilizzare i browser web per poter fare tutto con delle limitazioni ci sono dei compromessi a cui dobbiamo scendere ed ecco perché non mi sento nemmeno di invogliare la gente ad acquistare determinati dispositivi sono dispositivi per utenti molto consapevoli per utenti nerd che dicono ah si ho il pine phone si fanno fighi con i loro amici nel google io ho il pine phone io ho il jingpad io ho questo io ho quell'altro però a conti fatti sono dispositivi costosi perché sono costosi che sono indicati per gli smanettatori che alla fine restano lì come esperimenti uno ce l'ha ce l'ha lo utilizza lì giusto per dire ce l'ho per smanettarci però se non si è uno sviluppatore che non cerca determinate feature che non si mette lì a smanettare per poter fare quell'applicazione x per quell'applicazione y per poter dimostrare al mondo di essere in grado di fare determinate cose con determinati dispositivi se sei un nerd nerd normale puoi fare a meno di acquistare un prodotto del genere anche perché io mi ricordo si per esempio che su linustack tip se non ricordo mai fece alcune recensioni di pine phone quella della prima generazione ed è proprio che si è bello si c'ha delle feature tipo le feature che portano a private come gli switch fisici per disattivare determinate funzionalità però però sono cose che come vi dicevo sono funzionalità per nerd veri nerd per i nerd normali non comprando non mi sento di consigliare di spendere soldi per acquistare determinati prodotti anche perché se volete uno smartphone al giorno d'oggi con 200 euro vi portate a casa uno smartphone della madonna e non un dispositivo che dovete stare appresso che dovete essere consapevole di avere diverse limitazioni e quant'altro eh vabbè beh comunque spero di non avervi annoiato troppo indistituto dopo con quest'ultima parte di questa puntata del podcast di marcosbox però non so sembra che nel corso degli anni sono diventato un pinguino mezzo disilluso e quindi alcune cose sì sì c'è l'entusiasmo poi mi rendo conto che bisogna mettere i piedi per terra bisogna essere un po' realisti comunque vi ricordo come sempre che potete seguirmi sui social mi trovate su facebook con la pagina ufficiale di marcosbox ma anche con il profilo privato marco geni quindi se volete darmi l'amicizia cercatemi e mi troverete mi trovate su twitter sia con la pagina di marcosbox che poi profilo twitter mio personale quello di marcosbox ve l'ho detto tante di quelle volte è un profilo che sta lì in attesa di riuscire a liberare il nome utente marcosbox su twitter maledetto tizio che si è iscritto col nome marcosbox prima di me stesso mi trovate sul canale youtube dove anche ripubblico oltre ogni tanto a qualche video o qualche cosa ripubblico le puntate del podcast di marcosbox come backup ma anche per tutti gli utenti che preferiscono ascoltarmi tramite youtube c'è gente che mi preferisce ascoltare tramite youtube si lo so mi trovate su anchor mi trovate su amazon music mi trovate su alexa con la scritta dedicata mi trovate su apple podcast google podcast spotify tune in chi più ne ha più una metta mi trovate su linkedin e mi trovate soprattutto su telegram con la pagina del canale ufficiale di marcosbox mi trovate anche nella pagina dedicata alla community di marcosbox dove vi invito tutti quanti fortemente a iscrivervi c'è il cazzeggio libero ma si parla principalmente di linux ma non solo perché si parla come dicevo c'è il cazzeggio libero quindi potete parlare di qualsiasi argomento vi trovate poi nel canale dedicato alle offerte di marcosbox su amazon perché da qualche tempo a questa parte ho richiesto l'affigliazione ad amazon infatti trovate anche il banner su marcosbox di amazon potete acquistare prodotti su amazon utilizzando il mio link di affiliazione oppure cliccando sull'offerta che pubblico sul canale telegram di marcosbox dedicato alle offerte e sapete bene come funziona voi non pagate nulla in più ma amazon mi restituisce mi dà una percentuale sui vostri acquisti piccolina però che può far utile che mi è servito anche qualche recentemente per poter fare qualche piccolo upgrade al computer quindi ho preso l'SSD nuovo per la partizione linux quindi se mi volete supportare sapete come supportarmi a costo zero lunga vita e prosperità a tutti quanti ci risentiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di marcosbox ciao ciao